Eccolo, eccolo! Buongiorno, buon day ragazzi Qua è barbuto sempre piaciuto che vi parla Benvenuti in questo nuovo video Io sono barbuto ma non ho la barba Ragazzi oggi siamo tornati con un video incredibile Siamo qui con una nuova reaction ai tiktoker Penso che questi tiktoker ci piacciono tanto Piaciono tanto a me, piacciono tanto a voi Oggi siamo qui di nuovo Dopo un mese circa Con una reaction ai tiktok della mia ragazza Bea Testeremo il mio livello di pazienza Vedremo se anche oggi mi farà incazzare come l'ultima volta Ovviamente sto scherzando incazzare per modo di dire Vedremo un po' sui tiktok Ci divertiremo assieme Sono qua con questo tablet Che devo dire ragazzi è stato un acquisto davvero grandioso Lo sto usando tantissimo E ovviamente qua abbiamo la maglietta Pettacolo Che riflette Si illumina col flash Vi lascio sempre il link in descrizione Nel primo commento Per tutto il merch Le mascherine, le felpe, le magliette Tutto il merch Pettacolo Se anche voi volete un pezzo di barbuto sempre piaciuto Link in descrizione O nel primo commento Ok dai ci siamo Allora sono qui sul profilo di Bea Ovviamente non c'è il tasto segui Perché ovviamente non ho ancora creato un profilo qua sul tablet Non ho fatto l'accesso col mio Ma ora ne creerò uno secondario Dove caricherò dei video Boh Cazzo di cane Ok ragazzi Allora stiamo per partire con la reaction ai tiktok Io vi ricordo prima di iniziare Che in descrizione ma anche nel primo commento Trovate tutti i link utili per seguirmi Per stalkerarmi Ogni sera faccio diretta alle 21 E per seguirmi dovete cliccare sul link che vi lascio in descrizione nel primo commento Ovviamente faccio dirette sia dove parlo sia dove gioco Gioco anche con voi Poi c'è Instagram che dovete assolutamente seguirvi Seguirvi Dovete assolutamente seguirmi E poi ovviamente c'è Cosa c'è? C'è il merch Che dovete acquistare Collezione Pettacolo Ora Fatta questa breve introduzione Dove vi rompo le scatole Dove vi dico dove seguirmi Perché non è che Cioè io ve lo dico ma dovete farlo Cioè siete obbligati Io vi obbligo Partiamo con questa reaction Partiamo col tiktok più recente Dove risponde a un commento Che hai fatto ai capelli Vediamo Cosa ho fatto? Li ho tagliati Li ha tagliati Ho fatto il ciuffo così Bianco E poi sono diventata più bionda Poi così sono diventata più bionda Diventata più bionda ragazzi E Ho fatto la tinta Ho fatto la tinta Ho fatto la tinta Dove sono andati i commenti? Veramente? Allora giro che se trovo un altro commento così Oh attenzione che Cioè Cosa fa? Cosa fa? Cosa fa? Cosa fa se trova un altro commento così? Cioè adesso non riesce più la roba lì Prima 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 Adesso dove sei un commento? Attenzione eh Si è scaldata la ragazza Questo non è un lip sling che è lei che canta Ragazzi io ve lo dico Non mi metto io a cantare perché se mi mettessi a cantare ragazzi Diventerei cantante Dimenterei cantante Babuto Sempre piaciuto Nuova challenge Oh il cagnutino Non si sente la musica qua? Non si sente la musica? Perché non si sente la musica? Non si sente la musica questo tiktok Bea E barbutto sempre piaciuto Questi tiktok sono sfasati Io continuo ad alzare e abbassare il volume Alcuni sono altissimi Alcuni sono bassi Ragazzi fatemi capire qua Oh quello Quello è babuto Quello è babuto Come matchiamo Con tutte le ferme avanzioni Ragazzi mi è venuto una strana roba Mi è venuto da parlare così ogni tanto Con la R Moscia Io non ce l'ho la R Moscia A parlare in questo modo Vi assicuro che mi viene auto Cioè non riesco più a fermarmi Vi inizio a parlare così E poi Avete capito? Parlo così E poi Quando la prof ti vuole interrogare Durante la video lezione Premiamo play Ho visto una scuola tua Molto aperta Ragazzi Il mio ragazzo quando non mi fa i grattini Prima di andare a dormire Cosa vuole dire? Si butta in mezzo alla strada Quando mi faccia i grattini Grave questa cosa Oddio che schifo Cazzo sto facendo Oh Ma cos'è? Questi tiktok Comunque secondo me Li fa solo lei Ma cos'è? Quando il tuo ragazzo Ti lascia perché ha conosciuto Un'altra su Instagram Ma sei sempre tu Con un profilo fake Quindi con questo vorresti dire che Quella ragazza Con cui messaggiavo L'altro giorno Ovviamente scherzo Perché messaggio con almeno 20 Ragazze Il barbuto è sempre piaciuto Quando il tuo sugar daddy Ti ha appena comprato Una villa gigante Ragazzi Nei commenti Mi potete dire Cosa vuol dire Questo sugar daddy Perché non lo so Lo sento dire spesso Ma non so Cosa voglio dire Sugar daddy Fatemelo sapere Nei commenti Io e mia sorella Gemella Vogliamo lo stesso uomo E che problema c'è? Io lo sapevo L'altra volta Coso Adesso questo Com'è che si chiamava Quell'altro Dell'altra volta Chris Brown No non era Chris Brown Chi era? Mi sfugge il nome Quel cantante Che si è andato a fare il TikTok Bel ragazzo Per l'amor di Dio Però Adesso questo qua Vogliamo mettere Com'è che si chiama questo qua? Tony Lopez Chi è? È Tony Lopez O è l'altro? Comunque voglio ammettere Cioè Barbuto è sempre piaciuto Questo è bellissimo Quando vuoi fargli capire Che sei scazzata per qualcosa Vediamo Non conosco la canzone Ecco vediamo Questo mental breakdown check Cos'è sta roba? Ah qua quando ha provato a farsi la tinta da sola Che non è brava come me ovviamente Sono più bravo io a fare le tinte ragazzi Se avete bisogno di una tinta Contattate Barbuto nazionale E questo è barbuto eh Questo è barbuto Guarda che capelli rosa Guarda che tinta che mi ero fatto Incredibile Che tenero Che tenero Ah qua gli ho sputtato l'acqua in faccia Comunque con quegli occhiali sono irresistibili Ecco Jason Derulo si chiamava quello dell'altra volta Ah un altro tiktok Insieme Sentiamo 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 Facciamolo Sì Ha Ha Yo Adesso sapete cosa vi dico? Sapete cosa vi dico? Mo metto la base e ve lo faccio io freestyle ragazzi Senza scrivere niente qua Let's do it Yo 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 Bella Jason Derulo Bella Tyler Holder Bella la ragazza che non so come si chiama Si Yo Barbuto sulla base Si Mi chiamo Barbuto sono sempre piaciuto Speriamo che con Jason Derulo non sia anche cornuto Quando bevo il caffè me lo faccio da un imbuto Yo Mi chiamo Barbuto Giuseppe Ho una certa È finito È finito È finito Dunque mi chiamo Barbuto Giuseppe Ho un certo amore per quelle che si chiamano tette Ragazzi che freestyle Ho sentito solo tette Ciao ragazza Ciao Stavo facendo un freestyle Sulla base di Jason Derulo Sto amore Eh lo so L'ho fatto eh Hai fatto un freestyle? Certo Come è venuto? Bene Datemi un voto Da 1 a 10 Io te lo devo dare Non l'ho sentito? No loro Eccolo Bene Poi Andiamo avanti Andiamo avanti Attenzione Attenzione Quello sono io eh Quello sono io Non mi ero neanche accorto ragazzi Zero Ragazzi In questo video non solo abbiamo fatto la reaction C'è stato anche un freestyle ragazzi Che freestyle Comunque è arrivato il momento ragazzi I capelli sono diventati completamente di nuovo Biondi Bianchi È andato via rosa Quindi tocca farsi la tinta blu E vi ricordo che la farò in diretta Con voi Perché ho perso una scommessa Quindi andate tutti a seguirmi Link in descrizione E nel primo commento Spero che vi siate divertiti Ma penso proprio di sì come al solito Perché barbuto è sempre piaciuto Vi ricordo in descrizione Nel primo commento Il merch petacolo Felpe, magliette Mascherine C'è tutto raga Tutto Se avete un pezzo di barbuto è sempre piaciuto Affrettatevi Ci vediamo Mercoledì con un nuovo video Perché ogni mercoledì Ogni venerdì E ogni domenica Alle 18 Barbuto Carica qua un video su youtube Segnatevelo sul calendario Attivatevi le notifiche E se siete nuovi iscritti Commentate con hashtag Nuovi iscritto E benvenuti nella famiglia